salve amici del canale benvenuti in questo nuovo video in cui parlerò dei motivi per cui valutare l'acquisto delle azioni invidia per prima cosa vediamo l'andamento del prezzo delle azioni invidia su varie scale temporali negli ultimi cinque giorni c'è stato un aumento di valore del 21,23 per cento nell'ultimo mese del 13,10 per cento su base semestrale del 24,51 per cento dal primo gennaio c'è stato un calo però del 12,18 per cento a causa dei noti fatti di cronaca su base quinquennale però vediamo che c'è un aumento di ben 884,48 per cento cioè il titolo azionario è salito di valore di quasi dieci volte e questo è sicuramente qualcosa che rende questo titolo azionario nel medio lungo periodo molto interessante con prospettive di ulteriore crescita perché le azioni invidia sono importanti innanzitutto sappiamo bene come oggigiorno i computer che acquistiamo non sono sempre più potenti con schede grafiche sempre più performanti e come sappiamo una delle case produttrici sicuramente più rinomate nella produzione di schede grafiche e sicuramente invidia la RTX serie 30 con i suoi vari modelli sicuramente molto apprezzata dal mercato ha portato un incremento di prestazioni rispetto alla serie 20 davvero notevole per cui oggigiorno gran parte dei laptop e dei desktop montano schede grafiche invidia quali sono le prospettive future che potrebbero portare questo titolo azionario ad aumentare ulteriormente il proprio valore beh sicuramente un motivo che potrebbe portare gli investitori ad investire sul titolo invidia e il tema ancora piuttosto controverso che ancora diciamo ci appare ancora lontano che è quello del metaverso il metaverso si preannuncia come una delle grandi innovazioni che si farà strada nei prossimi anni e in questo metaverso chiaramente si creano praticamente delle vere e proprie realtà virtuali e per creare delle realtà virtuali ci vuole grande capacità di calcolo la grande capacità di calcolo viene data da schede grafiche molto potenti quindi il metaverso di invidia detto Omniverse si compone di due parti Omniverse Avatar e Omniverse Replicator Avatar si caratterizza per la generazione di assistenti AI in grado di interagire quotidianamente con le richieste dei clienti quali transazioni, ordini ai ristoranti e prenotazioni di vario tipo quindi c'è la sezione Avatar che è destinata essenzialmente ai servizi rivolti agli utenti di questo metaverso invece Omniverse Replicator è un potente motore di dati sintetici per l'addestramento di reti neurali cosa sono le reti neurali? parlando terra a terra le reti neurali sono diciamo dei programmi che funzionano un po' come i bambini cioè questi programmi hanno capacità di risolvere problemi ma non sanno risolvere inizialmente il problema che gli diamo in pasto è come un bambino che all'inizio non sa fare niente non si sa vestire non sa mangiare non non sa parlare eccetera e quindi bisogna insegnargli tutto quanto le reti neurali funzionano così cioè si crea questo programma e poi gli si dà in pasto un problema questo problema inizialmente il programma non lo sa risolvere dandogli delle istruzioni lo si addestra e questo programma diventa via via sempre più abile a risolvere problemi e a proporre anche delle soluzioni più efficienti ai problemi al momento questi questo metaverso è considerato poco più di un gioco però se un colosso come Nvidia ci crede così tanto motivo ci sarà e lo vedremo nei prossimi anni anche se questo comporterà uno sconvolgimento di tutte le nostre vite perché ci sarà una vera e propria rivoluzione un impatto diciamo che potrebbe anche essere del peso di quello che è stato l'avvento dei social perché Nvidia ha delle prospettive di crescita interessanti per il futuro sicuramente fra i progetti futuri di sviluppo da parte di Nvidia c'è quello della guida autonoma Nvidia crede fermamente nello sviluppo di tutta una serie di sistemi che permettano di avere veicoli a guida autonoma e come vedete i miglioramenti ovviamente si susseguono man mano che migliorano la gestione delle telecamere e quindi la reazione che il sistema ha in base agli ostacoli che si si pongono quindi la guida autonoma sicuramente è uno dei grandi progetti su cui Nvidia sta investendo credendo fermamente di poter arrivare arrivare a un certo grado di sicurezza grazie alla intelligenza artificiale che ovviamente richiede grande capacità di calcolo e questa capacità di calcolo viene data essenzialmente da queste schede grafiche che sono il core business di questa azienda quindi lo stack software aperto di Nvidia drive consente agli sviluppatori di creare funzionalità per la percezione la mappatura la pianificazione il monitoraggio del conducente con varie reti dnn ridondanti poi c'è la piattaforma av pronta per la produzione Nvidia drive hyperion è una piattaforma di sviluppo completa è un'architettura di riferimento per la progettazione di veicoli autonomi ci sono tutti questi assistenti intelligenti che Nvidia sta cercando di sviluppare e che ovviamente cercherà anche di integrare in qualche modo con l'altro suo grande progetto cioè quello dell'invidia omniverse cioè il suo metaverso questo al fine di creare un'intelligenza artificiale in tempo reale e quindi come vedete le automobili del futuro diventeranno dei veri e propri centri di calcolo perché avranno un sacco di schede grafiche dentro e quindi ci sarà veramente tanta informatica dentro alle automobili del futuro a questo punto andiamo a vedere un pochino che tipo di previsione da un sito che si chiama coin price forecast per il titolo azionario un video come vedete a fine 2022 è previsto un prezzo di 372 dollari a fine 2025 un prezzo di 737 dollari a fine 2030 un prezzo di 1154 dollari a fine 2033 un prezzo di 1335 dollari quindi a patto che non ci siano ulteriori novità negative nel panorama geopolitico e pandemico le prospettive di crescita di questo titolo azionario sono molto molto buone e con questo ho concluso bene alla prossima occasione e un saluto da Pietro d'Aprile ciao ciao